Arriva a trecate la polizia locale di prossimità, una nuova iniziativa in materia di sicurezza e tutela di cittadini. Grazie all'ampiamento dell'organico della nostra polizia locale che l'amministrazione ha perseguito in questi anni, spiegano il sindaco Federico Binatti e l'assessore alla sicurezza Alessandro Pasca, siamo oggi in grado di garantire la presenza statica dei nostri agenti. Questi saranno infatti presenti in piazza Cavour e anche nella zona della stazione ferrovia. News 24, la tua nuova TV locale.